Ciao, sono Tatin Songan e sono qui per raccontarvi il mio nuovissimo lavoro. Un doppio album con moltissimi materiali dove vi potete immergere in un'incredibile varietà di stile. Si tratta di 18 brani di World Music, dove si incontrano e si fondano la tradizione della musica camerunese e europea, un mix di lingua e stili veramente originale e avvolgente. All'interno dell'album troverete un team di musicisti di primo ordine, tutto da scoprire. Supportatemi qui Produzionedalbasso.com